lei è d'aria che finirà nel video comunque aspettare che arriva va bene va bene dai lui è il grande Ettore maestro tutto bene tutto a posto e niente in ordine Grazie a tutti Longevità, salute e chiarezza della mente Piano, 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 piano Piano, 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 piano Piano, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.